Vino e alta formazione si incontrano alla Scuola Sant'Anna di Pisa, dove va in scena il Master Vini Italiani e Mercati Mondiali. Giunto all'ottava edizione, promosso dall'Associazione Italiana Sommelier, è organizzato congiuntamente dalla Scuola Sant'Anna di Pisa, dall'Università di Pisa, dall'Università per Stranieri di Siena e dall'Università di Siena. Ricordiamo che l'Italia è sempre il primo paese produttore al mondo, anche con la vendemmia 2022, che è appena di fatto conclusa, con un trend incrementale molto importante per quanto riguarda l'export. Entro la fine del 2022 dovremmo arrivare a più di 7 miliardi di export. È chiaro che ha bisogno, il mondo del vino, di professionalità sempre più forti, più elevate. Il Master intende formare e consolidare una professionalità oggi sempre più richiesta in Italia, che riesca a comunicare con le competenze sviluppate nella fase di formazione in aula e di seggio aziendale il valore aggiunto altamente identitario e culturale del vino italiano, al fine di poterlo promuovere e diffondere su nuovi mercati mondiali. Insomma, studenti e studentesi soprattutto da tutta Italia, qua al Sant'Anna, perché, e questa è una conferma, il mondo del vino è sempre più declinato al femminile. Anche a questo Master abbiamo moltissime ragazze e il loro successo, poi, a livello di carriera, è innegabile. Del resto, posso dire che alle donne lo stile e il garbo anche nel comunicare il vino, che è una delle cose di cui si interessa questo Master, non manca mai.